Carmen Russo e l'avvertimento al marito Enzo Paolo Turchi prima della partenza per la nuova edizione del Grande Fratello su Canale 5. La coppia più bella e longeva dello spettacolo italiano è pronta a separarsi, ma solo ed esclusivamente per lavoro. Enzo Paolo Turchi è un concorrente della prossima edizione del Grande Fratello su Canale 5, condotta da Alfonso Signorini e in partenza a breve. Una trattativa che a quanto pare è durata abbastanza, ma alla fine gli autori del popolare format Mediaset ci sono riusciti e il nome è ormai ufficiale. I due sono avvezzi al mondo dei reality. Carmen Russo ha partecipato a L'Isola dei famosi e due volte al Grande Fratello. Il popolare coreografo è stato in Honduras una volta, ma è stato costretto a ritirarsi per dei problemi di salute. Ora è tempo di prendersi la rivincita che merita. Il pubblico lo conosce e lo ama per la sua simpatia e bontà, quindi l'attesa aumenta in vista dell'ingresso nella casa più spiata d'Italia. Cosa ha da dirgli l'amata moglie, che probabilmente dovrà rinunciare alla sua presenza in casa per parecchie settimane? Carmen Russo e il prezioso consiglio a Enzo Paolo Turchi prima del Grande Fratello. Una coppia legatissima, che non si è mai separata per troppo tempo in anni e anni d'amore. I momenti di crisi e difficoltà ci sono stati, ma li hanno sempre superati con forza e dedizione. Il coronamento più bello e importante è sicuramente stato la nascita della loro Maria, la figlia voluta e desiderata alla quale oggi offrono costantemente tutto il loro amore. A quanto pare, la piccola che cresce ogni giorno a vista d'occhio sarà solo con mamma Carmen a partire da metà settembre. Papà Enzo Paolo sarà infatti impegnato come concorrente nella casa del Grande Fratello. L'avvertimento prezioso della Russo, tra le righe ma non troppo, è quello di essere presente e disponibili con tutti gli altri inquilini. Lo fa attraverso la metafora delle polpette, suo piatto forte che cucinava spesso durante le edizioni alle quali ha preso parte nel corso degli anni. Per questo era molto amata e ben vista dai compagni. Consiglia dunque la stessa cosa al marito, che si prepara a questa nuova esperienza prendendo nota grazie alla pietanza del cuore, che Carmen Russo prepara a casa nelle occasioni speciali. Non vediamo l'ora di fare il tifo per Enzo Paolo e assistere a tutte le sorprese che Carmen e Maria gli faranno, grazie alla complicità degli autori della trasmissione.